Domenica, poco prima delle 10 di sera, una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio ha notato un'auto al parcheggio del cimitero di Santa Croce. Alla sua interna un giovane che nel momento dell'identificazione ha mostrato segni di nervosismo. Perquisito, gli sono stati trovati addosso 8 grammi di marijuana, quasi 3 grammi di ashes, nonché un macinino grinder, ed una confezione con all'interno residui di marijuana. Segnalato quale assuntore, ritiro immediato della patente.